Buongiorno, ben trovati all'appuntamento di giovedì 29 ottobre con la nostra rassegna stampa mattino 6 che si apre con il santo del giorno che viene ricordato e venerato dalla Chiesa Cattolica si tratta di Santo Norato di Vercelli alla morte del Vescovo Limenio avvenuta nel 396 la comunità vercellese fu agitata e sconvolta da gravi discordie che impedirono la designazione del nuovo candidato protraendo a lungo la vacanza della sede una sede che è rimasta vacante fino all'intervento di San D'Ambrogio che con una lunga e severa e ammonitrice epistola che fu l'ultimo soscritto sul declinare del 396 e poi di persona decise di porre fine alla contesa e al vacazio e quindi arrivò onorato che nutri per il grande Vescovo di Milano sentimenti di filiale gratitudine e devozione quando questo cadde infermo all'inizio della primavera del 397 accorse a Milano per assisterlo dell'azione pastorale di Santo Norato e testimonianza un carme inciso sulla lastra sepolcrale della sua tomba posta nella cattedrale cittadina accanto a quelle di Eusebio e Limenio nel testo onorato è descritto come degno discepolo del maestro Eusebio del quale aveva condiviso le pene dell'esilio e del carcere come predicatore dell'ortodossa dottrina cattolica contro gli influssi ariani il suo episcopato durò circa un ventennio e si concluse il 29 ottobre dell'anno 415 giorno in cui ancora ricordato nel calendario liturgico delle diocesi di Vercelli e di Milano le reliquie di Santo Norato riposano sotto la mensa di un altare laterale della cattedrale di Vercelli l'iconografia del santo nelle tipiche sembianze di un anziano santo vescovo a un tratto specifico nel presentarlo mentre comunica Ambrogio Morente dunque Santo Norato di Vercelli che viene ricordato lo vedete nella foto nella giornata di oggi dalla Chiesa Cattolica possiamo dunque iniziare la nostra consuetara segna stampa partendo dalle prime pagine del quotidiano Il Centro iniziamo con l'edizione di Pescara per andare a vedere quali sono i titoli principali ecco qui la prima pagina controllore pestato dal passeggero siamo a Pescara giovane sorpreso sul bus senza biglietto scende e aggredisce in strada dipendente della GTM la vittima dice costretti a lavorare tra sputi e insulti anche i novantenni non rispettano le regole poi la fotonotizia che arriva dal santuario del volto santo di Manopello perché c'è stata la visita sorpresa dell'arcivescovo tedesco nel santuario appunto del piccolo centro in provincia di Pescara si potrebbe preparare l'arrivo di Papa Francesco proprio al volto santo di Manopello e poi in basso la cronaca giudiziaria l'omicidio bucco la procura si arrende l'assassino dell'operaio non ha lasciato tracce chiesta l'archiviazione poi nelle cronache ladri all'assalto altre due case svuotate in provincia di Pescara precisamente a Montesilvano e poi America Graffiti apertura vicina nell'ex Camplone dunque potrebbe aprire un nuovo locale in Piazza Primo Maggio e poi il calcio a Pescara Calcio l'ite in società bilancio in rosso per oltre 4 milioni e mezzo ieri c'è stata l'assemblea dei soci ricorderete che due giorni fa c'erano state le dimissioni dell'amministratore delegato Danilo Iannascola allora lasciamo l'edizione di Pescara del Centro andiamo a vedere insieme tra qualche istante lo faremo l'edizione le altre edizioni del centro ma per guadagnare qualche secondo andiamo a vedere la prima pagina invece del messaggero e le pagine interne di cronaca nazionale poi torneremo sul centro con le altre edizioni allora prima pagina del messaggero Renzi scarica Marino e dice non tratto il premier da Cuba ribadisce la linea del partito democratico partita chiusa non ci sarà nessun incontro il sindaco riunito con il vertice dei democratici e quattro assessori dimissioni in bilico si passerà dall'aula e poi si parla di PIL l'Istat dice la fiducia torna a livelli precrisi i tassi dei bot finiscono sotto zero e poi una notizia che riguarda l'omicidio stradale perché è arrivato il primo sì dalla camera in carcere fino a 18 anni e poi lo sport perché è quella di ieri è stata una giornata di campionato in Serie A con il turno infrasettimanale altri tre gol la testa è sempre giallorossa la Roma ha vinto in casa per 3-1 con l'Udinesi ha mantenuto la leadership del campionato Lazio sconfitta Bergamo questo per quanto riguarda le formazioni romane e poi gli altri risultati li vedremo nelle pagine sportive vince il Milan con il Chievo ma perde la Juventus con il Sassuolo è davvero crisi per i bianconeri allora passiamo alle pagine interne del messaggero pagina 2 Marino non molla siamo a Roma vertice con il PD muro contro muro si passerà dall'aula Ignazio non ha altre carte da giocare l'attesa nel partito sempre più diviso ieri lunga riunione con il commissario del Partito Democratico di Roma Orfini Renzi chiude tutte le porte nessuna trattativa o incontro il leader da Cuba conferma la linea del PD adesso deve lasciare poi il commissario i renziani rispondono alla sinistra scelta vostra noi volevamo gentiloni polemiche per l'indecisione di Marino che si diceva poteva addirittura ritirare le dimissioni Milano capitale morale ma Roma boccia Cantone presidente dell'anticorruzione dice la città eterna non ha gli anticorpi levata di scudi bipartisan il magistrato corregge poi il tiro non critiche ma pungolo proseguiamo fiducia al top pil su dell'1% Mattarella crisi ormai alle spalle numeri positivi per il nostro paese ma è così alto l'indice Istat che misura le aspettative di consumatori ed imprese Renzi questo è l'antipasto il bello deve ancora venire e Padoan il ministro dice agli imprenditori ora investite fisco nuovo stop ai dirigenti illegittimi province verso 8.000 i suberi ma la metà andrà nei tribunali sabato scadrà il termine per indicare il personale considerato in sovrannumero con una norma nella legge di stabilità possibili più trasferimenti alla giustizia sono arrivate 7.000 domande di mobilità volontaria per lavorare nelle aule giudiziarie dunque la maggior parte di questi lavoratori delle province ce ne supero andranno a prestare la loro opera nei tribunali canone e caso appalti finiscono sotto accusa governo e vertici RAI le critiche dell'opposizione alla manovra ma l'antitrust dice ok metterlo in bolletta ma distinto dal consumo di energia e poi a Barufakis 24.000 euro polemico per l'invito da Fazio l'ex ministro greco era stato ospite nella trasmissione RAI e come leggiamo in questo titolo l'ex ministro ellenico avrebbe preso 24.000 euro offese a Bindi tutto il PD contro De Luca il partito dice inaccettabili polemica all'interno dei democratici andiamo ancora avanti cambiamo argomento omicidio stradale 5 anni la pena minima la Camera approva infatti il testo del provvedimento che tornerà in Senato per il sì definitivo condanne fino a 18 anni di carcere la relatrice Alessia Morani dice un segnale a tutti i pirati della strada fondamentale la revoca della patente siamo alla cronaca internazionale Tuil non è terrorista liberato ed espulso la procura di Milano archivia l'inchiesta nessun ruolo nella strage del bardo il giovane telefonò a uno scafista non sapendo che era un giadaista come immigrato irregolare è stato portato al centro di prima accoglienza di Torino da lì dovrà essere rispedito in Marocco ma c'è l'ipotesi dell'asilo politico e poi ancora cronaca internazionale in Siria e in Iraq scatta l'allarme colera il Pentagono pronti ad azioni di terra e poi torniamo a pagina 11 perché c'è una notizia che riguarda la Turchia e anche l'informazione perché la polizia chiude le reti televisive dell'opposizione proseguiamo musei statali la carica dei 114 dirigenti il ministero vara alla fase 2 un'ondata di nomine alla guida delle istituzioni culturali da Castel San Dancelo alla Cadoro ammessi alla selezione solo i funzionari interni del di Castero in maggioranza storici dell'arte molti amministreranno più siti ancora avanti la dama nera di Anas Gasparri mi ha detto Antone stai tranquilla si parla dell'inchiesta dell'Anas la cricca preoccupata per il cambio ai vertici dell'azienda nell'informativa della finanza tutti i contatti con i politici e poi si parla ancora dell'organizzazione mondiale della sanità che nelle ore precedenti dei giorni scorsi aveva parlato di carne dei pericoli che potevano potevano produrre un eccessivo consumo di carne rossa ci sono state tante polemiche ora c'è l'esame al caffè insetti a tavola sì dell'Unione Europea dopo i salumi analisi per l'espresso quali sono i veri rischi per lo stomaco si legge in questo articolo poi via libera cavallette larve e grilli gli chef si dividono sui nuovi alimenti e poi l'indagine vedete carne si parlava proprio di questa comunicazione dell'organizzazione mondiale della sanità consumi ridotti solo per l'11% degli italiani e siamo all'economia a Stabot rendimenti sotto zero poi Fiat Chrysler trimestre in rosso ma più ricavi e poi a proposito di auto il caso diesel pesa sulla Volkswagen conti negativi dopo 15 anni e poi ancora economia Saipem vola con il patto tra Eni e FSI dunque buone notizie per la Saipem noi lasciamo il messaggero torniamo al centro per andare a vedere qualche titolo che riguarda proprio il quotidiano d'Abruzzo vediamo le pagine interne del centro pagina 2 Padoan alle imprese dovete assumere come abbiamo visto anche dal messaggero numeri positivi per il nostro paese dopo parecchio tempo il ministro dice andremo avanti con il taglio delle tasse in modo strutturale visco di Banca Italia pronostica per quest'anno un punto di aumento del PIL fiducia al top dopo 13 anni per imprese e consumatori Renzi l'Italia ora ci crede politica il caso Roma Marino dimissioni rifletto dice l'ex sindaco che potrebbe tornare anche primo cittadino qualora decidesse di ritirare le dimissioni vertice tra il sindaco ed Orfini incontro cordiale ma senza novità guerra di nervi con Renzi e poi De Luca al vetriolo contro la Bindi in tv scoppia la bufera abbiamo visto che tutto il partito ha difeso l'esponente Bindi proprio dagli attacchi di De Luca e poi Cantone che ha parlato di Roma città senza anticorpi Milano capitale Borale poi come abbiamo visto Cantone ha un po' corretto il tiro dopo le polemiche siamo all'allarme sulla salute menù con insetti ed alghe primo ok di Strasburgo nuovi cibi l'Europarlamento approva procedure di autorizzazione più semplici nella lista anche i nanomateriali nel 2016 anche il caffè sarà sotto l'esame dell'organizzazione mondiale della sanità e poi Save the Children che dice scuole il 40% di quelle italiane è senza mensa proseguiamo Camera via libera all'omicidio stradale pene fino a 18 anni il testo deve ora tornare al senato dopo le ultime modifiche pugno duro per i pirati della strada e revoca della patente un disegno di legge molto atteso dopo tanti anni sono soddisfatte le associazioni delle vittime della strada e poi la strage al Bardo non all'estradizione tu il libero chiesta l'archiviazione dell'indagine ma il marocchino sarà espulso allora vediamo un attimo se possiamo andare a vedere le altre edizioni del centro oppure proseguire con l'edizione di Pescara allora passiamo alle cronache d'Abruzzo del centro si parla di trivelle petrolifere ombrina disposta ad allontanare la nave dalla costa il consulente Rock Popper Chico Testa dice il pozzo non è spostabile il referendum non è sull'oil ma contro il governo dunque il consulente della società Rock Popper Chico Testa ha spiegato quali sono quali sarebbero le problematiche ma quella di ieri è stata una giornata importante proprio e anche a proposito di ombrina perché la Croazia ha dato lo stop ai progetti alle perforazioni in mare paese che si trova dall'altra parte dell'Adriatico ora tocca a voi l'invito dell'ambasciatore ad Ortona sulla maestrale del delegato dell'ambasciata di Croazia in Italia Lelia Zalic che ha parlato proprio della decisione della Croazia di dire stop a questi progetti ora tocca a voi ha detto il delegato del paese Croato quella di ieri questa dichiarazione è arrivata proprio a bordo della nave maestrale che è attraccata da due giorni anzi da tre giorni per la precisione ad Ortona ieri c'è stato un importante convegno proprio sulla nave maestrale riguardo la macro regione adriatica e queste dichiarazioni del delegato dell'ambasciata di Croazia sono state rilasciate proprio a margine di questo convegno noi eravamo ieri sulla nave della marina militare fregata maestrale per seguire questo convegno abbiamo ascoltato il delegato dell'ambasciata croata abbiamo ascoltato anche il presidente della regione d'Alfonso e il presidente della regione marca andiamo a vedere il servizio il cammino della macro regione adriatico ionica sulle tracce dell'ipa adriatic e il titolo del convegno che si è tenuto questa mattina sulla fregata maestrale in porto ad Ortona fino al 31 di ottobre fra i relatori del convegno il presidente della regione abruzzo Luciano D'Alfonso il collega della regione Marche Luca Ceriscioli il presidente dell'autorità portuale di Civitavecchia Pasqualino Monti ed il rappresentante dell'ambasciatore della Croazia in Italia Lilia Zalalic che ha parlato dello stop alle trivellazioni nel suo paese noi pensiamo che sarebbe meglio di salvaguardare il mare adriatico e esuffrirlo per quelle altre attività dove siamo forti con l'Italia il turismo specialmente con cui possiamo anche ben guadagnare anche senza il petrolio presidente D'Alfonso oggi questo importante convegno qui sulla fregata maestrale per parlare del progetto della macroregione adriatica un progetto sempre più avanti oggettivamente siamo con passi significativi in avanti sia per quanto riguarda la macroregione adriatico ionica e il ruolo dell'Abruzzo sia per quanto riguarda anche una iniziativa fondamentale che noi abbiamo assunto a Bruxelles in sede di Parlamento europeo per estendere la connettività trasportistica europea anche a Abruzzo Molise e nord della Puglia abbiamo assunto noi l'iniziativa e proprio oggi verrà votata in Parlamento europeo consentirà l'estendimento della velocità anche ad Abruzzo Molise e nord della Puglia molti però non sanno cos'è la regione adriatica quali regioni italiane ed europee coinvolge i paesi ovviamente sono quelli che si affacciano tutte le regioni che si affacciano sull'Adriatico e sullo Ionio quindi compresa la Sicilia e sull'altro fronte la Croazia il Montenegro l'Albania la Grecia con una forte componente di partecipazione quindi è una macroregione che tiene insieme più regioni più paesi l'area è un'area interessante perché raccoglie una sessantina di milioni di abitanti quindi grande come il nostro paese e che condividono poi i pilastri di questo obiettivo ovvero l'economia del mare l'economia sostenibile i collegamenti le connessioni che sono molto importanti e la fregata maestrale che resterà nel porto di Ortona fino al 31 ottobre da domani sarà visitata dagli alunni delle scuole ortonesi un grande successo per uno dei simboli della marina militare ascoltiamo il comandante Giuseppe Rizzi domani avremo una conferenza storica il cui obiettivo è quello di illustrare appunto la storia dei marinai che hanno combattuto in passato durante la prima guerra mondiale in queste acque alle mie spalle vedete i tabelloni che saranno di ausilio per coloro che presenteranno appunto agli studenti racconteranno questa storia nei prossimi giorni anche da oggi saremo in disposizione per le visite a bordo anche se il tempo non è clemente però per le visite a bordo da parte della popolazione e anche chiaramente ai studenti stessi che potranno visitare l'unità e in particolar modo poi sabato il 31 daremo maggior risalto alla nostra cooperazione appunto con la popolazione in particolar modo con i giovani delle scuole uscendo in mare portandoci portando con noi penso un centinaio di studenti che avranno quindi modo di vedere cosa vuol dire andare per mare sulla nave da guerra veramente affascinanti queste immagini girate proprio sulla nave sulla fregata della marina militare italiana la fregata maestrale allora andiamo a vedere finalmente le altre edizioni del centro siamo all'edizione di Chieti la prima pagina evasione il PM condannate Caputi processo a Milano per la vendita del gruppo Valentino l'ingegnere Teatino imputato con i marzotto per non aver versato al fisco 70 milioni di euro la procura ha chiesto un anno e quattro mesi e poi vasto nuovo raid nella villa confiscata portate via parti di una Mercedes e poi carichieti salvataggio a Roma aiuti da 100 milioni maccarone incontra commissari e sindacati e poi le cronache novità all'ospedale Renzetti di Lanciano più posti letto e anestesisti in ospedale raid a Gissi ladri a scuola rubano soldi e devastano aule e poi malore in ufficio ieri per l'ex sindaco di Quadri che è stato ricoverato all'ospedale di Teramo lasciamo l'edizione di Chieti del quotidiano il centro avevamo già visto in apertura quella di Pescara andiamo a vedere ora l'edizione di Teramo del quotidiano d'Abruzzo anche in questo caso per vedere quali sono i titoli principali dell'edizione Teramana un titolo che riguarda la cronaca coltellato dopo una lite e grave Silvi ferito all'addome un uomo di 34 anni che era appena uscito dal bar del centro del paese e la polizia non esclude che l'aggressione sia dovuta ad un regolamento di conti per la droga e poi Teramo Teramo Calcio ieri c'è stato il recupero di Sant'Arcangelo di Romagna per i Biancorossi che sono andati a vincere in terra romagnola per 2-1 si tratta dei primi punti in trasferta vedete una foto della gara giocata tra i giallo-blu di casa e i Biancorossi allenati da Vivarini e poi cambiando argomento nuovi tagli della ASL ad Atri e poi le cronache sempre da Teramo e provincia contributi e vasi ogni anno mille denunce patto tra la procura e l'Inps e poi lettera a Mattarella presidente della Repubblica mio ragazzo è condannato all'isolamento parla una mamma di un figlio che ha problemi e poi in Val Vibrata il comune di Alba vende due scuole chiudiamo con l'edizione del centro di L'Aquila Avezzano Sulmona e poi passeremo al meteo con il nostro Giovanni De Palma per conoscere le previsioni del tempo per le prossime ore chiudiamo però con l'ultima prima pagina del centro edizione Avezzano Sulmona l'Aquila ecco qui Cialente Tancredi voluto da riga l'Aquila rivelazioni dopo la bufera giudiziaria che vede indagato l'ex assessore di centrodestra non c'entrava nulla con l'assegnazione dei lavori di puntellamento la nomina durò poco queste le dichiarazioni e poi si spegne a 39 anni Mastracci fu attore nella guerra degli Antò stroncato da un malore l'attore di 39 anni e poi caccia agli Aquilani truffati dopo l'arresto del mediatore Facchini l'indagine si allarga in città poi le cronache sette denunciati truffa l'Inps per vacanze a sbafo in Italia poi lavoro non pagato sale sulla gru per sei ore denunciato vedete l'immagine di questo operaio della sua protesta e poi a Carsoli allevamento visitato dai ladri prese cento pecore allora sono le 7 e 22 minuti possiamo dunque aprire il nostro come sempre appuntamento quotidiano con il tempo con il meteo per parlare con il nostro Giovanni De Palma che vado a salutare Giovanni buongiorno buongiorno Paolo buongiorno a te e a tutti i telespettatori allora caro Giovanni questo tempo che fa i capricci nebbia pioggia insomma non è sicuramente un periodo propizio per il bel tempo tra l'altro si avvicina l'estate di San Martino per le prossime ore anche per il weekend se possiamo allargarci di qualche ora per arrivare fino a domenica cosa ci dobbiamo aspettare dal tempo eh sì Paolo ha detto bene non è il periodo migliore per avere il tempo stabile perché siamo in autunno e l'autunno ci porta un tipo di tempo spesso umido piovoso ed è quello che sta accadendo in queste ultime ore sulla nostra regione a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che nel al primo mattino ha raggiunto la nostra regione ha favorito dei rovesci e dei temporali attualmente si sposta verso Levante ma attenzione perché se da un lato ci sarà una temporanea attenuazione della nuvolosità nelle prossime ore nel corso della mattinata tra la tarda mattinata e il poveriggio invece potranno formarsi nuovi addensamenti associati a delle precipitazioni a prevalente carattere temporalesco quindi c'è la possibilità di temporali in particolar modo sulle zone montuose ma soprattutto sul settore orientale della nostra regione quindi non si escludono temporali localmente di forte intensità poi questa perturbazione tenderà gradualmente a spostarsi verso le regioni meridionali ma almeno fino a domani sera la nostra regione sarà interessata comunque da una copertura nuvolosa piuttosto compatta soprattutto sul settore orientale in particolar modo nella giornata di venerdì con delle piogge che però pian piano poi entrosera inizieranno ad attenuarsi e il miglioramento sarà più deciso comunque nel corso del fine settimana mentre nel weekend il tempo peggiorerà sensibilmente sulle estreme regioni meridionali dove soprattutto tra Sicilia e Calabria potranno esserci fenomeni alluvionali quindi una situazione questa che potrebbe portare quindi temporale e localmente di forte intensità nelle prossime ore poi ha accennato anche del tempo alla possibilità di questo miglioramento ebbene gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano proprio un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso dei primi giorni della prossima settimana a causa dell'arrivo di una intensa decisa formazione anticiclonica quindi un'area di alta pressione che interesserà gran parte dell'Europa centro-orientale e si riverserà e si adagerà sulla nostra penisola di conseguenza torna il bel tempo ma non mancheranno ovviamente degli annuolamenti e ovviamente dato che siamo in autunno c'è la possibilità comunque di banchi di nebbia sul settore orientale della nostra regione tra domenica e lunedì comunque un clima gradevole quello che si prospetta nei primi giorni della prossima settimana mentre farà freddo da domenica perché nella giornata di domenica perché affluiranno masse d'aria fredda dai vicini Balcani Paolo Ebbene dunque queste le previsioni per le prossime ore i prossimi giorni nella nostra regione come sempre grazie alla puntualità del nostro Giovanni De Palma che ritroveremo domani sempre intorno alle 7.20 in mattino 6 grazie Giovanni buona giornata buon lavoro appuntamento con te a domani Grazie Paolo una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 Per saperne di più conoscete ormai gli strumenti il sito www.abruzzometeo.org diretto dal nostro meteorologo Giovanni De Palma come potete vedere aggiornato minuto dopo minuto sull'evoluzione meteo nella nostra regione poi c'è anche la pagina Facebook che potete utilizzare anche come strumento per interagire con il nostro meteorologo e restare sempre informati sulle previsioni del tempo in Abruzzo allora noi ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6 Nuovo in studio per la seconda parte di Mattino 6 siamo alle pagine d'Abruzzo del centro abbiamo visto qualche minuto fa il servizio sul convegno riguardante la macro regione Adriatico Ionica che si è tenuto ieri sulla nave della Marina Militare la Fregata Maestrale vediamo anche gli altri titoli delle pagine d'Abruzzo si torna a parlare di alimenti di alimentazione i consigli del professore sulla carne rossa troppo allarmismo paparella docente di microbiologia degli alimenti a Teramo consumo moderato non fatela bruciare attenti ai nitriti e poi confesercenti dice vendite in calo già del 20% e poi cambiamo argomento si parla di edilizia edilizia in crisi la CNA preme sulle opere pubbliche e poi i dati del Cresa residenti in calo ed export salvo con i trasporti se ne è parlato ieri in una conferenza stampa nella sede della CNA Abruzzo a Pescara vediamo il servizio di Francesca Romana Testi 1832 imprese scomparse tra il 2011 e il 2014 33 opere incompiute nel 2014 e 40 nel 2015 sono i dati relativi al settore edile abruzzese che continua a lanciare un grido d'allarme alle istituzioni auspichiamo ovviamente la sensibilità delle istituzioni pubbliche auspichiamo che questo codice nel momento dei decreti attuativi porti ancora più avanti il discorso del facilità del rinnovole del patrimonio pubblico esistente e auspichiamo così come è stato detto nella legge dell'Ele che ci sia una facilità per le piccole e medie imprese che purtroppo ad oggi viste le condizioni di mercato ma anche viste le norme attualmente in vigore non molto facilmente si riescono ad approcciare agli appalti pubblici secondo gli analisti causa di tante difficoltà del settore oltre la crisi e anche la saturazione del mercato ecco dunque che il piano di ripresa dovrebbe concentrarsi sul recupero degli immobili esistenti concetto che ben si sposa con l'allarme lanciato a Pescara dagli architetti che avvertono basta cementificazione il rischio idrogeologico è una minaccia ormai ineludibile intanto i dati del settore di costruzione sono purtroppo ancora negative nonostante in Abruzzo abbiamo uno dei cantieri più grandi che ci sono in Europa e in Italia in questo momento dall'altro canto registriamo purtroppo un'altra nota sconfortante che è quello delle opere pubbliche incompiute rispetto alla centimiligazione di cui mi parlava lei noi come imprese di costruzione e come associazione da anni andiamo declamiamo il fatto che il mercato delle costruzioni di fatto si è spostato oggi dalle fonti che abbiamo autorevoli del Cresme sappiamo che ben il 70% del mercato delle costruzioni è rappresentato il rinnovo dell'edificio di esistente proseguiamo con il centro siamo alla cronaca di Pescara la prima pagina dedicata ad un fatto proprio accaduto ieri nel centro controllore preso a pugni dal passeggero denunciato giovani di Giulianova la vittima ferita al labbro era senza biglietto ha tentato la fuga ma l'ho inseguito giovane poi fermato dai vigili urbani due settimane fa aggressione in treno e poi pagina 13 ancora la cronaca il caso è risolto l'omicidio buco è un delitto perfetto la procura si arrende dopo tre anni di indagini e chiede l'archiviazione l'assassino dell'operaio non ha lasciato tracce mio fratello è stato ammazzato ancora la rabbia della sorella l'assassino resta libero andremo fino in fondo per avere giustizia proseguiamo il buco dei servizi sociali inchiesta sul Maiella e Morrone si indaga sul debito di 3 milioni azienda speciale in crisi dipendenti non pagati da 11 mesi esposto del consigliere regionale Bracco che fa scattare i controlli gli inquirenti scavano negli ultimi anni di gestione adesso passano al setaccio tutti i conti e poi la protesta va avanti scrocco in un mese pagati 4 o 5 stipendi ha detto l'assessore regionale ancora avanti crollo sull'asse attrezzato ricorderete nella scorsa giornata di Pasqua nella Pasqua dell'anno scorso il crollo nella zona di via Raiala a Pescara una perizia custalanas consulente del tribunale rivela la frana che ha travolto la Fogni si poteva evitare un puntellamento il muro non sarebbe caduto su via Raiale crepa sottovalutata e poi ancora notizie da Pescara il progetto di Tina Bellini mobili dedicati ai grandi artisti ogni mese una creazione di design omaggio a pittori del novecento e poi la festa di colori sorrisi e solidarietà raccolta di materiale didattico per i ragazzi del troiano delfico proseguiamo eventi al 4 vero lezione in discoteca con le immagini shock di incidenti stradali prima il ballo poi la commozione 300 studenti imparano come comportarsi in auto grazie ai racconti dei soccorritori andiamo ancora avanti inaugurazione entro novembre apre America Graffiti assunti 20 dipendenti un'azienda pescarese di popcorn per i cinema presso in franchising il marchio dopo la tavola calda americana nell'ex campione previsti altri due punti vendita e poi confesercenti negozianti in assemblea su parcheggi e marketing e poi a proposito di eventi anche nel centro città per i prossimi giorni arriva Cioccolandia da domani a domenica la fiera sul Corso Umberto spazi anche per i bambini appuntamento tradizionale quello di Cioccolandia e poi Beans all'Aurum i progetti più creativi dei talenti abruzzesi sabato faccia a faccia tra chi offre e chi cerca lavoro workshop gratuiti ed incontri con i guru dell'Adidas e siamo alla pagina di Montesilvano del centro l'assalto della microcriminalità svuotate altre due case di ori e preziosi ladri entrano nelle villette e individuate le casse forti portano via il bottino indisturbati doppia indagine dei carabinieri e poi il maltempo Cozzi stop allagamenti nelle traverse del retropineta l'assessore annuncia che entro dieci giorni partiranno le opere idrauliche per mitigare il rischio delle alluvioni e poi la Stella Maris progetto pasticciato sospiri del centrodestra contestano il piano della provincia sull'ex colonia e poi a Sportore bus gratis per i cimiteri al via il nuovo servizio comunale proseguiamo case per giovani coppie grazie ai soldi di Terna siamo a San Giovanni Teatino nel nuovo accordo stipulato con il comune è prevista anche la riqualificazione di un tratto della statale Tiburtina e poi a Francavilla Bagarre in consiglio comunale per gli alberi monumentali proseguiamo andiamo avanti per leggere le altre pagine siamo a Penne Popoli e l'Alta Val Pescara Manopello incontro al Volto Santo padre Georg in Abruzzo prepara l'arrivo di Papa Francesco questa è la domanda perché la visita sorpresa del prefetto della casa pontificia nella Basilica del Sacro Velo segue la tappa di martedì al miracolo equaristico di Lanciano l'arcivescovo tedesco accompagnò Papa Benedetto XVI nel 2006 nove anni fa si ricorda in questo articolo il viaggio del pontefice in Abruzzo e poi vestina gas non ci sono offerte d'acquisto siamo a Penne nessuno vuole il 6% delle quote societarie il sindaco faremo un'altra gara ma si rischia il default e poi Di Marco presidente della provincia di Vescara che dice resta a scafa il centro per l'impiego poi una notizia di cronaca che arriva da Torre dei Passeri arrestato di Rocco deve scontare tre anni l'operazione dei carabinieri della stazione di Torre dei Passeri della compagnia di Popoli siamo a Chieti aiuti da 100 milioni carichieti a Roma incontro salvataggio faccia a faccia tra Maccarone del fondo interbancario e i commissari subito dopo riunione fiume con i sindacati e poi il PM chiede un anno e quattro mesi per Caputi Milano l'ingegnere Teatino imputato coi marzotto di maxi evasione sulla vendita del gruppo Valentino proseguiamo pagina dell'Aquila del quotidiano il centro l'indagine vacanze a sbafo in Italia con una truffa all'Inps sette denunciati percepivano assegni sociali ma erano residenti all'estero accertato un danno di 103 mila euro nei confronti dello Stato Carsoli allarme sui consumi di carne non ferma i ladri di pecore poi il giallo di Colabrese altri esami a Pisa eseguite nuove radiografie e laboratorio per scoprire si è subito colpi in testa e poi questa notizia luttuosa che arriva dall'Aquila si spegne a 39 anni l'attore Mastracci recitò nel film di Riccardo Milani la guerra degli Antò questa mattina i funerali nella chiesa di Pettino e poi Teramo la cronaca che arriva da Teramo in questo caso da Silvi accoltellato dopo una lite grave notte di paura in Via Rossi si indaga nel mondo dello spaccio e si cerca nelle immagini di alcune telecamere della zona e poi cambiando argomento c'è questa intervista al fondatore della Tendopoli di San Gabriele padre Cordeschi che dice la mia vita con i giovani e poi la cronaca giudiziaria Parolisi è un assassino non merita sconti parla il papà di Melania Rea dopo che l'ex militare ha fatto un nuovo ricorso presentato un nuovo ricorso in Cassazione per una riduzione della pena prima di arrivare di passare allo sport dobbiamo andare a leggere insieme le pagine del messaggero e poi del quotidiano la città di Teramo dunque andiamo al messaggero con l'inserto Abruzzo per vedere quali sono i titoli delle prime pagine la prima pagina dell'inserto Abruzzo che parla anche come il centro del crollo dell'asse attrezzato nella zona di Pescara di Via Raiale l'ingegner Camata perito del Tribunale ha evidenziato carenze su asfalto e armature che pongono interrogativi sull'opera stessa in comune scontro tra sospiri e sindaco e poi Teti non ho ucciso mia nonna e io le ho sempre voluto bene bomba parla l'uomo accusato dell'omicidio della nonna impassibile davanti alle foto dell'anziana massacrata e poi c'è questo studio medico che parla del mal di testa che sarebbe colpa dei bulli pagina 2 macro regione si può l'Europa sposta a sud il corridoio baltico il convegno ieri che si è tenuto sulla nave sulla fregata della marina militare maestrale vi abbiamo proposto qualche minuto fa il servizio con diverse interviste poi parlando di economia il cresa la ripresa c'è la crisi si sembra superata le imprese si rafforzano ma l'artigianato soffre cronaca dell'Aquila Gran Sasso è corsa contro il tempo occorrono 300 mila euro per pagare i lavori di manutenzione degli impianti di risarita delle fontarie della scindarella la prevendita degli schipassa finora ha toccato 360 tessere con un calo del 10-15% rispetto allo scorso anno poi ha detto ai ponteggi di nuovo sulla gru minaccia suicidio per gli stipendi arretrati e poi la maxitruffa stupore in città per l'arresto di un broker e poi Cialente il sindaco dice riga mi consigliotta credi ecco l'interrogatorio del sindaco reso come indagine difensiva legale dell'ex consigliere comunale proseguiamo seconda pagina dell'Aquila appoggio Santa Maria ecco come si chiama la nuova porta urbica la rivelazione dell'architetto Di Stefano durante la presentazione del recupero della cinta muraria lavori per 8 milioni di euro e poi Giacobbo in città per Weijer la visita del giornalista Rai e poi la vertenza edimo sbloccata la cassa integrazione cronaca ad Avezzano Sulmona morto nel canale la provincia sotto accusa la procura di Avezzano siamo in Marsica contesta l'omicidio colposo anche a tre dipendenti dell'ente dovevano garantire la sicurezza secondo il pubblico ministero le barriere di protezione erano inesistenti in alcune zone e mal posizionate in altre vedete nella foto l'auto di Giuseppe Asci che nel tondo in basso finito in un canale del Fucino e poi siamo ad Alfedena sgomberato l'immobile che ospita i migranti tornando ad Avezzano rubò Bancomat a Poliziotto giovane assolto altre notizie dalla Marsica e dalla Valle Peligna siamo a Sulmona percepivano assegno sociale ma vivevano all'estero e a Molino Aterno ladri nel municipio salva la cassaforte nella città Peligna a Mense va in scena la rivolta del Panino e a Villa Vallelonga tutti si tassano per comprare il computer al giovane disabile siamo a Pescara asse attrezzato crollato interrogativi sull'esecuzione dell'opera il perito del tribunale rileva presunte anomalie su asfalto e armature e poi noi sindaci al lavoro per fare città migliori Alessandrini racconta attività e retroscena all'assemblea del Lanci sull'autobus senza biglietto prende a pugni il controllore e questo episodio è avvenuto a Pescara pagina 2 Maximi genitori a processo per l'adozione questa mattina in tribunale a Pescara davanti al GUP i due il papà e la mamma del giovane Maxim e davanti al GUP anche i due medici che seguirono la pratica omicidio buco il PM chiede l'archiviazione e poi edilizia la crisi ha cancellato in tre anni 1832 imprese e poi Cozzi siamo a Montesilvano arrivano i sensori contro gli agliagamenti questa importante notizia che arriva dalla cittadina adriatica e poi grande sfida ai fornelli per i detenuti del carcere questa bella iniziativa nella casa circondariale San Donato e poi giovani terapia shock contro lo sballo pensa alla vita guida con la testa 400 ragazzi al 4 vele scoprono il dramma degli incidenti dopo la notte in discoteca ospite d'eccezione Cristiano Militello di striscia la notizia immagini crude testimonianze per stimolare le coscienze dei ragazzi e poi torniamo a Montesilvano la cronaca rubati oro e gioielli in due abitazioni e poi i dati della polizia municipale a Pescara tornando proprio a questa iniziativa anche del 4 vele sulle strade di Pescara un bollettino di guerra e poi l'avvertenza della Maiella Morrone a Proda oggi in Prefettura e poi a Pescara appuntamenti del fine settimana weekend con i capolavori di Dolcezza tornano infatti le bancarelle di Cioccolandia siamo alla pagina di Chieti del messaggero Carichieti adesso si muove la politica dopo lo stanziamento di denaro deciso dal fondo tutela depositi i sindacati chiedono agli amministratori locali di fare la loro parte Trivelli della CGL dice è necessario premere sul governo affinché approvi il nuovo decreto senza il quale non ci potranno essere interventi e poi commemorazione dei defunti bus e navetta gratuiti ed altri servizi e poi coiba almeno 30 mila euro di danni ancora mistero sull'origine del rogo l'incendio al locale di Chieti ieri vi abbiamo proposto il servizio e poi questa notizia che riguarda la giudiziaria Totonobile assolto di felice a giudizio il capo ultra del Pescara era accusato di aver acquistato droga per poi rivenderla c'è stata la soluzione andiamo avanti Lanciano Vastortona non ho ucciso mia nonna le volevo bene il delitto di bomba Teti nega tutto al GIP la sua difesa sostiene che l'anziana sia morta per cause naturali dovete scarcerarlo ma la procura incalza il quarantenne cui vengono mostrate le foto di Elian orribilmente massacrata lui resta impassibile a Lanciano multe che salasso per chi paga in ritardo a vasto l'affetto dei colleghi salva la cappellaia Ester e poi sempre a vasto auto in sosta senza ticket raffica di contravenzioni a Ortona Porto il quartiere che il comune dimentica tornando alla zona frentana e di nuovo a Lanciano si parla di sanità l'assessore regionale la sanità Silvio Paolucci dice ecco come crescerà l'ospedale Renzetti siamo alla cronaca di Teramo il comune vara gli asfalti fai da te avanza lo stilicidio di risarcimento i terminati soldi per le manutenzioni sono stati stornati quelli per le alluvioni e poi ruzzo comuneato scoppia la pax idrica l'abbandono parco fluviale senza manutenzione cimitero riaperta l'area transennata e poi disabili la nuova graduatoria schiaffo delle famiglie al comune e poi ai varchi multa per un ritardo di 4 secondi siamo alla cronaca di Giulianova Roseto e Val Vibrata partiamo da Giulianova il ricorso dei balneatori Tari troppo alta la protesta degli esercenti degli stabilimenti balneari a Silvi accoltellato fuori dal bar non denuncia indaga la polizia ad Alba Adriatica vigilanza armata per i siti comunali proseguiamo Roseto sosta in via Colombo scontro sul filo dell'ironia e poi a Tortoreto variante al piano regolatore meno aree edificabili siamo giunti allo sport ma dobbiamo passare a leggere insieme le pagine del quotidiano La città di Teramo apriamo con la prima pagina del giornale si parla di questo fatto di cronaca accaduto a Silvi accoltellato davanti al bar 34enne si presenta al pronto soccorso con una ferita all'addome caccia all'aggressore poi gli altri titoli tra cui quello che riguarda lo sport con la vittoria del Teramo nel recupero di Sant'Arcangelo andiamo avanti le pagine interne pagina 3 Abruzzo sorpresa la Croazia blocca le sue trivelle la diplomazia croata dall'annuncio nel giorno del forum di Spalato che gemella gli ambientalisti adriatici abbiamo ascoltato proprio il diplomatico croato Lilia Zellaric al nostro microfono nel servizio che abbiamo proposto pochi minuti fa poi Pescara uccise il figlio di 5 anni informatico di Pineto oggi davanti al giudice ricorderete l'omicidio del piccolo Maxim e poi emiciclo politica regionale d'Alfonso Brocca sul garante dei detenuti gatti e chiodi sollevano una questione di forma prima del voto il governatore risponde con tre bombe atomiche e poi finanziamenti da Bruxelles 231 milioni per lo sviluppo dell'Abruzzo proseguiamo teramo e scontro tra consiglieri e assessori al tavolo politico e poi andando avanti a Enel Capolinea per l'incontro con Morra Fratelli d'Italia fa il punto dopo l'addio rientro solo con l'azzeramento di giunta proseguiamo ancora teramo imminente la riapertura del parcheggio al cimitero la asle da tempo chiede al comune la permuta di un terreno nei pressi di circonvallazione ragusa e poi viabilità viale crispi e stazione al buio dopo i lavori alla rotatoria proseguiamo Teramo Lavoro scatta la lotta ai grandi evasori firmata l'intesa tra Inps e Procura sui mancati versamenti previdenziali e poi sanità il commissario D'Alfonso dà il via libera all'assunzione di 16 infermieri Cretarola usato per colpire il galantuoro Catarra la difesa del manager di Teramo Lavoro la butta in politica nella ringa difensiva la sentenza mercoledì e poi la politica riordino delle province rischio caos caos per D'Ignazio carne e tumori interviene l'esperto dell'università di Teramo l'abbiamo visto anche dalle pagine del centro il professor Antonello Paparella in diretta a Piazza Pulita per discutere del caso del momento e degli studi Teramani proseguiamo siamo alle pagine della provincia la strada dei Prati di Tivo è tutta un cantiere iniziato l'intervento per sistemare la strada provinciale 43 soddisfazione tra gli operatori turistici in vista della stagione poi con le dara dissesto vietato a abbassare la guardia bellante il ruolo dell'assistente familiare della badante nella rete dei servizi sociali Val Vibrata allarme furti nella zona di Civitella del Tronto a Tortoreto l'amministrazione continua a nascondere il piano regolatore il piano è pronto ma dalla commissione i documenti non possono uscire alba adriatica pronto all'esposto sui lavori alla scuola elementare e poi cronaca di Giulianova Mociano banda di ladri espulsa da Giulianova tre pugliesi sorpresi dalla polizia con attrezzi da scasso in macchina sempre Giulianova ricomparsi fondi per sistemare gli algeri del saninello cornicione pericolante alla Diamicis arriva la gru e poi sociale giovedì prossimo l'incontro del progetto Home Car Premium e poi appropriazione in debita confermata la condanna per il re delle moto Erasmo di Giacinto siamo a Roseto Pineto Atri Silvi requieme per il punto nascita di Atri parliamo di sanità ancora la Asle rispetta i tempi domani aprono le nuove sale parto di Teramo sociale attivato a Roseto lo sportello per il supporto giuridico ai minorenni e sempre a Roseto messa a nuovo la Pineta sul lungomare centrale Silvi accoltellato per una lite di fronte al bar notte di sangue 34enne si presenta al pronto soccorso con un vistoso taglio al fianco operato d'urgenza e poi Pineto l'amministrazione vieta i 5 stelle di utilizzare il sito del comune economia l'Abruzzo rientra nel corridorio europeo a Bruxelles approvato l'emendamento per estendere i finanziamenti del Tentida 118 milioni anche a Marche e Abruzzo e Nord della Puglia ambiente la regione Abruzzo approva il piano d'abbattimento del CO2 in presa anche la fira investe nella Magatacar e poi siamo alle pagine dello sport ecco qui la prima pagina dello sport della città di Teramo parliamo proprio del Teramo oggi vetrina per la formazione Biancorossa ieri recupero in campionato il Teramo sbanca Sant'Arcangelo in rimonta 2 a 1 per la formazione di Vincenzo Vivarini le reti dopo il vantaggio di Guidone sono state segnate da Petrella e Moreo ci sono poi le pagelle gli spogliatoi Vivarini e Cenciarelli dicono al 91 vittoria meritata andiamo a vedere anche le pagine dello sport del centro del messaggero partiamo dal centro in questo caso dalla Serie A perché ieri si sono giocate le gare della giornata di campionato in questo caso decima giornata vediamo i risultati Atalanta-Lazio 2 a 1 Bologna-Inter 0 a 1 giocata però l'altro ieri Forsinone-Carpi 2 a 1 Verona-Fiorentina 0 a 2 Milan-Chievo Napoli-Palermo 2 a 0 Roma-Odinese 3 a 1 Sampdoria-Empoli il posticipo di questa sera Sassuolo-Juventus 1 a 0 Torino-Genua 3 a 3 vedete in testa Roma 23 punti Napoli 21 risale il Milan a 16 in basso Carpi e Verona 5 Bologna 6 poi Frosinone ed Empoli 10 punti andiamo a vedere le pagine del sport regionale Pescara bilancio da 4 milioni e 6 di perdite i legali di Annascoli votano contro Sebastiani impossibile andare avanti insieme o la maggioranza e comando io dice il Presidente l'ex amministratore delegato chiedeva di mettere denaro fresco l'accusa denunciati casi di mala gestione dunque bagarre proprio in società tra il Presidente Sebastiani e l'ex amministratore delegato della formazione Bianca Azzurra Danilo Iannascoli andiamo a vedere anche le altre pagine che riguardano lo sport dal centro ma per guadagnare qualche secondo noi torniamo a parlare del Teramo perché come dicevamo ieri c'è stato il recupero di campionato con la vittoria dei Biancorossi per 2-1 a Sant'Arcangelo di Romagna andiamo a vedere il servizio che è stato realizzato da Andrea Costantini prima vittoria in trasferta e di conseguenza primi punti lontano dal Bonolis per il Teramo che spugna Sant'Arcangelo per 1-2 è andata come lo scorso anno con i Biancorossi prima in svantaggio ma poi capaci di ribaltare il risultato a conti fatti ancora Mirko Petrella un gol ed un assist l'uomo partita Vivarini mette dentro l'undici previsto con Di Paolo Antonio in regia e la coppia Moreo Petrella in avanti Out Amadio squalificato e Cecchini che ha problemi alla caviglia sul fronte romagnolo l'allenatore Zauli preferisce il match winner con la lucchese Venitucci nel ruolo di trequartista a Margiotta che finisce in panchina l'avvio del Teramo è in sordina i romagnoli in ripartenza fanno davvero male peraltro con grande facilità al decimo la conclusione di Venitucci è centrale all'undicesimo Devena sdraia con una finta di Paolo Antonio e tira da fuori Tonti respinge a mani aperte al quattordicesimo Tonti esce su Devena lanciato a rete da una fiondata di Peterman il gol è nell'aria al ventesimo i romagnoli passano in vantaggio Ilari suggerisce in profondità per Guidone che viene rimuntato da dietro ma fallosamente da Altobello il quale viene anche ammonito il rigore sembra netto dagli undici metri va all'ex teatino Marco Guidone che si fa ipnotizzare da Tonti ma è lo stesso Guidone a raccogliere la respinta dell'estremo Teramano e a insaccare il gol del vantaggio del Sant'Arcangelo fatto il gol la compagine di casa si tira indietro il Teramo pian piano si ridesta senza fare però granché al ventitresimo il terro cross di Dorazio è respinto da Nardi poi al trentaduesimo una bella conclusione a giro di Petrella viene bloccata dall'estremo difensor di casa al quarantaquattresimo arriva il gol del pareggio del Teramo gran merito di Dorazio che va via sulla sinistra e pennella un cross con il sinistro per il più piccolo di tutti Mirko Petrella che anticipa il diretto rivale e insacca alle spalle di Nardi quarto gol in campionato per il furetto di Pratola Peligna e su questa azione si va all'intervallo ad inizio ripresa il Teramo trova subito il gol partita il quinto minuto Petrella va via sulla sinistra e mette in mezzo per Moreo che riesce a incrociare molto bene la conclusione con il sinistro non lascia scampo al portiere di casa Nardi dopo soli due minuti Petrella dovrà lasciare il campo per un affaticamento muscolare al suo posto le noci all'ottavo c'è già la palla per il terzo gol per il Teramo con Moreo che va in alto sul cross di Scipioni ma incorna centralmente al nono reagisce il Sant'Arcangelo quinta valla serve Guidone che sbaglia davanti a Tonti ma l'occasione migliore il Sant'Arcangelo ce l'ha al quattordicesimo cross di Venitucci colpo di testa di Guidone che centra la traversa da questo momento però il Teramo riesce a blindare la difesa e non concede più nulla agli avversari limitandosi appunto a controllare la situazione il Teramo stesso non riuscirà però a rendersi pericoloso di rimessa si succedono i cambi ma non c'è nient'altro da segnalare se non i ben sette minuti di recupero concessi dall'arbitro Maggioni di Lecco ma al termine del quale il Teramo può festeggiare la prima vittoria esterna stagionale e la classifica comincia ad assumere altri connotati soddisfazione in casa Teramo dunque per questa vittoria noi torniamo alle pagine dello Sport del centro avevamo visto i titoli che riguardavano il Pescara all'assemblea di ieri vediamo il Lanciano senza titolari la difesa va in difficoltà da Versa per Cesena spera di recuperare Aquilanti nel pacchetto arretrato e poi c'è il problema stadio proroga o ipotesi Pescara sabato scadrà la deroga e quindi il Guido Biondi sarà inagibile per i lavori ai distinti e poi il Teramo appunto abbiamo visto il servizio Petrella firma il colpo del Teramo Vivarini Duro la bici è stata scippata torna a parlare di quanto è accaduto quest'estate il tecnico bianco-rosso e poi la Coppa Italia di Serie D Chieti avanza in Coppa grazie a Dinardo e Suriano l'Avezzano imbottito di serve cade nel finale a Genzano Serpentara 3 Avezzano 2 e poi invece San Nicolò Chieti 1-2 vittoria dei Neroverdi nella gara con i biancazzurri di Massimo Epifani poi ancora sport ci sono anche 37 abruzzesi alla Maratona di New York chiudiamo con le pagine dello sport del messaggero vogliamo fare la storia Memushai l'impresa con l'Albania appartiene al passato adesso penso solo a fare grandi cose con il Pescara parla l'albanese capitano dei biancazzurri nel CDA abbiamo visto il volto nuovo è quello di Druda ieri l'assemblea dei soci l'Aquila in società c'è il ritorno di Iannini e poi il Lanciano la Virtus si aggrappa le reti di Priccolo il Teramo si sblocca Sant'Arcancello rimonta e vince poi la Coppa Italia Chieti elimina il San Nicolò 2-1 il risultato finale con reti di Di Nardo e Suriano per i Neroverdi e di De Gigio per la formazione di casa l'Avezzano cede 3-2 al Serpentara è tutto per lo sport dunque siamo giunti al termine dell'edizione odierna di giovedì 29 ottobre di mattino 6 vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione in particolare la prima edizione del TG6 come sempre oggi alle 14 grazie per averci seguito e buona giornata grazie per averci seguito